Il mio compleanno è il 9 marzo. Mi hanno dato il nome di un'idea e i colori della notte in cui sono nata. Sono il Football Club Internazionale Milano. Per tutti, l'Inter al femminile. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it. Sono state racchiuse. Una serata che ho organizzato e pianificato a lungo perché tutto fosse perfetto. Perché tutto rispecchiasse la mia storia. Perché tutto potesse custodire e amplificare ogni abbraccio, ogni augurio, ogni saluto, ogni ricordo, ogni bentrovato, ogni bentornato. Ogni son contento di esserci. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it. www.mesmerism.info.it attenzione, camera 2 in onda, attenzione camera 3 salvo a chiudere piano, attenzione 2 in onda. Grazie a tutti. Ricordi e auguri. Una serata vissuta tra eccellenza e identità. Uno spazio in cui riconoscerci. Come amici. Come fratelli. Come protagonisti di una grande storia che dura da 110 anni. La mia storia. La storia dell'Inter. La storia degli interisti. Nel bene e nel male adoriamo l'Inter. Proprio perché è come la vita. Non vince sempre. Vince e perde. Come tutti gli uomini normali e le donne normali.